Invece Cajuste a parte l'errore sul calcio di rigore come l'hai visto? A me sinceramente non è dispiaciuto, lo so che vado un pochino controcorrente su questa cosa però a me l'impatto gara è piaciuto, un giocatore che si è messo lì ha avuto entusiasmo ha ingaggiato parecchi duelli, non mi ricordo passaggi sbagliati io non mi ricordo errori grossolani da parte sua per esempio l'hanno un po' criticato per il fallo che ha fatto che poi ha procurato il cartellino ma quello è un intervento in ritardo, non è che è un errore che ti pregiudica la valutazione di una gara non mi interessa, può capitare, qua sembra di rivedere i fasti di Rog, prendeva il cartellino giallo quindi aveva giocato male, non mi interessa che abbia preso il cartellino giallo perché per questo ha fatto una buona partita, ovvio che magari gli pesi quell'errore l'irruenza più che altro con cui ha fatto quel fallo da rigore quindi no a me non è dispiaciuto per niente, ho visto che non è stato criticatissimo però il messaggio che è arrivato più che altro è difendiamolo perché altrimenti lo bruciamo quando secondo me il messaggio che si doveva mandare era ok perdoniamogli l'errore che ha fatto però teniamo anche conto che ha fatto una discreta partita grazie